Edouard Philippe è il nuovo primo ministro di Francia. Con la nomina del vice-sindaco 46enne di Le Havre, vicino d'Alain Juppé, il neopresidente Emmanuel Macron decide dunque di rivolgersi ai repubblicani per costituire una solida maggioranza in vista delle legislative dell'11 e 18 giugno. Diplomatosi all'ENA, la prestigiosa scuola dei funzionari pubblici francesi, Philippe ha cominciato la sua carriera nel Consiglio di Stato. Da giovane ha militato nelle file del Partito Socialista, per poi avvicinarsi a metà degli anni 90 alla destra. Grazie a tutti.